Allo stadio Galli di Tivoli il Chieti sfida il suo grande ex, il DS dei Laziali Alessandro Battisti, per il match della ventitreesima giornata che verrà trasmesso in diretta, in chiaro e in esclusiva, su Rete 8 dalle 14.30. Neroverdi scivolati a distanza siderale dalla zona promozione diretta e lontani oggi anche dai play-off. Confermato Iezzo in panchina, ora i teatini devono ritrovare a tutti i costi un successo che manca da troppo tempo. Zero vittorie finora nel 2024. A Tivoli mancherà lo squalificato Salvatore, sostituito da Di Sabatino nel ruolo di trequartista. Iezzo sta valutando anche un altro cambio in attacco con Sueva, che potrebbe prendere il posto di Masavud. Dubbio da sciogliere sul centravanti titolare. Ardemagni si gioca una maglia con Fall, arbitra Cal Solari di Albenga. Atletico Ascoli-L'Aquila. Il rosso-blu nelle marche con la carica di 150 tifosi al seguito e con i recuperati Persiani e Giulio Dori. Assente lo squalificato Wally, che sconta la seconda delle tre giornate di squalifica. Rosso-blu a quattro punti dalla coppia di testa, Samb e Campobasso, ma determinati ad accorciare le distanze e restare in corsa fino alla fine per il salto diretto in Serie C. L'Avezzano, dopo il K.O. nel derby di Notaresco prima della sosta, riparte in casa contro lo United Riccione per tornare all'inseguimento delle prime della classe. La pausa è servita a riportare la calma in casa marsicana dopo che il tecnico Ferazzoli era stato ad un passo dall'addio. Biancoverdi a sei punti dalle prime e due dalla cugina L'Aquila a terza in classifica. Fano Notaresco è stata posticipata al prossimo 21 febbraio perché entrambe le squadre hanno prestato dei giovani calciatori alla rappresentativa di Serie D impegnata nel torneo di Viareggio.